Ecco, lui si era, io mi ricordo negli ultimi mesi della sua vita, questo poi me l'ha raccontato, me l'ha confermato anche mio padre, lui si era isolato anche dalla famiglia perché non voleva coinvolgere la famiglia in questo confronto, in questo confronto tra lui e Bettino Craxi. Un confronto che ovviamente l'avrà portato alla morte perché Bettino Craxi assunse quelli, cioè lui doveva essere, l'oporto Zagami si era giocato il tutto per tutto per essere rieletto una terza volta, venne una chiesa evangelica siciliana a offrirgli alcune centinaia di voti che l'avrebbero aiutato in questa elezione, lui si rifiutò e questi andarono da Craxi che si comprò i voti e ovviamente vinse lui, il suo candidato, quello che è. Mio nonno aveva fatto la marcia su Roma, era stato nel partito monarchico, poi era passato al partito social democratico, che era molto importante allora.